Negli ultimi decenni l'innovazione ha portato a enormi passi in avanti nella ricerca medica in campo tecnologico e più recentemente nella tutela dell'ambiente Tutto questo ha arricchito le nostre vite, migliorandole ma presi dalla quotidianità e dal progresso non dobbiamo dimenticarci di cosa siamo veramente non possiamo permetterci di lasciare indietro noi è il momento di rimettere l'uomo al centro del mondo per poter trarre il meglio dalla nostra vita professionale vita familiare vita sociale finalmente noi finalmente Big Tech Human grazie a tutti grazie a tutti